Bene, buongiorno a tutti. I tempi dobbiamo un po' accelerarli, ma le slide ci aiutano un po' a introdurci agli workshop. Io preferisco chiamarli in italiano gruppi di lavoro. Allora, cerco di utilizzare un po' un'immagine per la presentazione dei contenuti. Io presento un po' i contenuti, Laura e Claudio invece presenteranno un po' la metodologia. Allora l'immagine è questa, mettiamo che in questi giorni siamo andati al supermercato e abbiamo raccolto un sacco di materiale per fare un pranzo. Allora adesso il mio compito è di preparare questo menù in dove tutti gli elementi cercano di trovare una sua collocazione come l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce ed eventualmente anche il caffè o mazza caffè. Io cerco adesso di farvi un menù un po' in sintesi. Allora intanto partiamo dalla stanza. La stanza che più è stata richiamata è quella che ci ha indicato un po' Papa Francesco, cioè l'orizzonte ispirativo che l'abbiamo trovato nella preghiera anche questa mattina eccetera, che il matrimonio è anche un lavoro di tutti i giorni, potrei dire un lavoro artigianale, un lavoro di oreficeria perché il marito ha il compito di fare più donna la moglie e la moglie ha il compito di fare più uomo e il marito. Crescere in umanità come uomo e come donna e questo si fa tra voi, questo si chiama crescere insieme. Ecco questo è un po' l'orizzonte dentro il quale noi abbiamo riflettuto. Allora cerchiamo adesso di mettere a fuoco il tema in vista del lavoro perché adesso abbiamo davanti il lavoro da fare. Quindi adesso la responsabilità è tutta vostra. Allora partiamo un po' dal tema di questo convegno che ci impegnerà anche l'anno prossimo. Don Paolo ha detto forse ci sarà anche un terzo anno, visto il materiale di questa mattina credo che forse dovremmo metterlo a punto, anche perché la sfida è veramente grande. Allora maschio e femmina li creò, questo è un testo fondativo del nostro pensiero. Cioè fondativo vuol dire che possiamo rivedere la casa, possiamo spostare i muri eccetera, ma i fondamenti sono sono questi. Le radici sponsali della persona umana. Papa Francesco proprio il 4 aprile ci ha detto che non dobbiamo cedere, non dobbiamo piegarsi al pensiero unico imposto ideologicamente. Credo che noi siamo in questo contesto, cioè c'è un pensiero unico che dobbiamo quasi ingoiarlo un po' per forza. Allora vediamo un po' il contributo delle relazioni. Le relazioni ci hanno fornito una pluralità di approcci al tema, teniamovi presenti questi vari approcci. Ce ne sono molteplici però abbiamo messo a fuoco questo. C'è stato un approccio biblico, Don Benzi, c'è stato un approccio teologico-antropologico, quello di padre Granados, che mi sembra sia stato molto molto apprezzato. C'è stato l'approccio giuridico, vi ricordate? C'è stato anche l'approccio esperienziale e sociale della Croazia, con le battaglie più o meno vinte, insomma, no, loro l'hanno vinta, noi l'abbiamo persa. C'è stato l'approccio educativo, soprattutto attraverso la tavola rotonda, e oggi abbiamo avuto, diremmo, una spesa abbondante qui, quello delle scienze psicanaliste, tra l'altro sono quelle che hanno e l'hanno portato, perché io personalmente penso che qui Freud abbia inciso in una maniera determinante, perché lui portando l'orientamento sessuale dal corpo alla libido, la libido non è né maschio né femmina, insomma, no? E quindi dobbiamo ancora arrivare lì. Allora, un primo lavoro negli workshop, ecco, gruppi di lavoro, dovremmo un po' individuare il punto nodale di ogni contributo, perché certamente i contributi che sono stati dati hanno segnato ciascuno di noi, uno ha preso una cosa, uno ha preso un'altra. Sapete che le grandi scoperte si fanno perché un giorno una frase ti ha colpito, insomma, no? Io ho trovato proprio recentemente un mio alunno di 30 anni fa, mi ha detto, sai, io nella vita ho impostato tutta la mia vita in una frase che tu avevi detto durante la scuola, io non mi ricordavo più neanche averle detto. Vedete, siamo trasmettitori, trasmettitori talvolta inconsapevoli, perché dopo chi agisce è un nastro, basta una frase per cambiare la vita. Sappiamo che Sant'Inazio di Loyola ha letto una volta una frase, eccetera, ma anche Sant'Agostino ha letto quella frase là dei romani, delle lettere romane, è cambiato tutta la vita. Ecco, cerchiamo nelle relazioni quello che ci cambia. Allora, guardiamo qual è la vera posta in gioco. La vera posta in gioco è il cambiamento del paradigma antropologico, cioè non è né problema etico, né un problema culturale, è un problema veramente radicale. Io voglio utilizzare una affermazione di questo signore, che forse può darsi che qualcuno abbia letto anche il suo libro La condizione fetale, dove dice, vorrei anche leggerlo questo perché è interessante, lui dice, fra i principali cambiamenti che hanno segnato l'ultimo trentennio del secolo scorso, hanno avuto grandissima importanza le trasformazioni che hanno caratterizzato la sfera della vita, in particolare le condizioni della riproduzione, della gestazione e della nascita. Siamo nel nostro tema. Questi cambiamenti riguardano da un lato il posto delle donne nella società, la rappresentazione della famiglia, i rapporti fra i generi, le modalità della vita sessuale, dell'affettività e più in generale le principali dimensioni della vita privata e dall'altro il nostro atteggiamento nei confronti delle possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico che va dall'ammirazione affascinata ma anche dalla reticenza inquieta. E quello che voglio sottolineare è il terzo punto che dice, di punto in bianco, tali cambiamenti si sono ritrovati al centro di grandi dibattiti e parso infatti, e non senza ragione, che comportassero una, pensate, riformulazione delle nostre concezioni all'appartenenza e all'umanità. È seria la faccenda, è la prima volta che noi, perché abbiamo cambiato tante cose ma sempre su un paradigma antropologico che noi davamo per scontato, non modificabile. Una rimessa in discussione delle dimensioni dell'antropologia prevalente nella società occidentale, dimensioni che fino ad oggi erano date per scontate. E qui mi rifaccio un po' a uno studio di una sociologa francese, Evelyn Sulerot, il suo libro purtroppo non è stato tradotto in italiano ma è molto interessante, di cui parla delle tre rivoluzioni con boule versé, la famiglia. Cioè le tre rivoluzioni che hanno boule versé, vuol dire quasi un calzino rivoltato, proprio scombussolato, la famiglia. Ah non le ho neanche buttate giù, va bene le ho lette. Dice la prima rivoluzione è stata quella contraccettiva negli anni 60, la seconda quella sessuale negli anni 70, la terza quella genetica negli anni 80. In tre decenni abbiamo cambiato duemila anni di prospettiva. La Chiesa non è stata qui a pensare perché ha risposto puntualmente alla prima rivoluzione con l'umane vite, alla seconda rivoluzione con persona umana negli anni 75 e alla terza rivoluzione con il donon vite dell'87, cioè non è stata lì a guardare. Che cosa è venuto? È venuto quello, utilizzando un po' il vocabolario di Marion, già tanto questa mattina è tutta francese, insomma, no? Che possiamo dire è l'esplosione del mistero erotico nella sua unità di sesso, amore e procreazione. Il professor Anatrella ha spiegato bene, cioè la contraccezione ha separato amore da procreazione, cioè si fa sesso senza procreazione, la rivoluzione sessuale ha separato matrimonio dall'esercizio della sessualità e l'altra ha separato procreazione da sesso e amore, adesso si fabbrica tutto nelle provette. L'ideologia di genere quindi è una ideologia della separazione, ha separato ciò che era unito, porta nel grembo un preciso obiettivo, lo dico con le parole di un noto teologo italiano, dissolvere il valore architettonico che la polarità maschile e femminile assume nella tradizione culturale universale, dicono. Quel valore appare fastidioso nel senso di divenire principio di discriminazione e sofferenza, difatti questo è il tema di fondo. Allora guardiamo un po' le radici sponsali del paradigma antropologico della differenza, le relazioni hanno richiamato questo, che noi dobbiamo non darlo per scontato, lo diamo ripensare per essere in grado di dialogare con questo mondo, perché non si torna indietro dalle tre rivoluzioni, la Sulerò ha detto è inutile andare prima, bisogna ripensare dopo. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio con noi, lo ha richiamato Papa Francesco e questa verità oggi è ferita. Io ho cercato adesso di fare in sintesi tutte le relazioni, vediamo se sono riuscito, ma questo è il piatto forte. Ve lo presento adesso in uno schema di questo genere. Adesso ve lo spiego però nei... eh? Non si vede, ma non corre vedere, perché tutto è mistero, bisogna andare al di là. Allora guardiamo il primo, cioè ecco il mistero che non si vede, il mistero è principio Dio, cioè il padre, il figlio e lo spirito santo, questo unicum, no? Cioè ci ha spiegato il biblista che solo non vuol dire solitudine psicologica, cioè non sei l'unico tu, no? Cioè non sei Dio, insomma, no? Non è bene che tu faccia Dio, insomma, devi fare la persona umana. Questa, Giovanni Palo II, a Rio di Janeiro, forse qualcuno di voi c'era, allora io c'ero, a Rio di Janeiro, ancora nel 97, ha parlato nella messa delle due architetture, l'architettura divina e l'architettura umana. Questa è l'architettura divina, che è, diremo, alla base. Poi Dio crea, però prima crea cielo e terra, luce, cioè c'è una bipolarità che è anche una bipolarità cosmica, cioè delle opposizioni, però questa bipolarità cosmica partecipa di Dio soltanto dell'esistenza, ma non della vita divina, perché qui, in questa polarità cosmica, la legge non è quella della libertà e dell'amore, la legge è quella della necessità e della forza, insomma, no? Cioè che lo si vede in natura. Poi però Dio lì creò, ecco la persona, cioè qua c'è maschio e femmina che c'è la bipolarità personalista, dove questo vige la legge della libertà. Difatti noi non nasciamo per un atto della nostra libertà, mi capite? Però ci sposiamo per un atto della nostra libertà. Quindi il passaggio dall'essere figlio all'essere sposo è un passaggio da un dono, da un dato che noi, in cui noi non ci abbiamo dato, a un dato libero. Ecco che da figlio si diventa sposi, ma il mondo della sponsalità, il mondo della libertà, perché è il mondo di Dio, il mondo della nunzialità. Questa è l'architettura umana, vedete ho fatto i tre triangoli, uno che è ribaltato l'altro, che risvecchia l'altro. Qui non lo leggo perché, però questa secondo me nella Familiaris Consorzio numero 11 è la più perfetta descrizione teologica dell'antropologia sponsale, dell'antropologia nunziale. Poi veniamo giù, i due saranno, c'è il matrimonio, che è una derivazione di questa architettura. Il matrimonio non è una costruzione sociale, l'elaborazione è una costruzione sociale, ma la struttura è divina, è Dio che ha voluto e dal matrimonio scatterisce la famiglia come intima comunità di vita e di amore. Il matrimonio allora è l'originario laboratorio dove avviene il processo della identificazione della persona su tre sequenze, quella della mia individualità, maschio e femmina. Al di là di tutto la scienza conferma questa, perché non c'è il terzo sesso da un punto di vista biologico, c'è x, y o x, x, è inutile. Le tendenze ci saranno, ma noi nasciamo con un sacco di tendenze, nasciamo anche con la tendenza a rubare, nessuno dice che deve diventare un diritto questo, nasciamo con tante tendenze, le dobbiamo educare alla luce della verità originaria, sia nella sua relazionalità, di fatti da maschio a marito, da femmina a moglie, ma anche poi nella sua genitorialità, da maschio a marito a padre, da femmina a moglie e madre, vedete tutta una sequenza, che è la maturazione della sessualità, perché l'amore è fecondo in tutti i sensi. Il matrimonio quindi sta al principio, è il luogo archetipo dove avviene la genealogia della persona, dice nella lettera alle famiglie Giovanni Paolo II, che è radicata nella biologia, come progressiva consapevolezza e accettazione della propria individualità sessuale di essere di fronte all'altro. Padre Anatrella ci ha spiegato che l'altro non è mai uguale, è sempre etero insomma, no? Voglio fargli un aiuto di fatti che gli corrisponda, che gli stia di fronte, questo che ne do. Tra l'altro sappiamo che nella lingua ebraica, e una lingua povera, non hanno i contrari, hanno soltanto, quindi il che ne do può essere amico ma anche nemico, è il contesto che te lo fa contrario, la vita matrimoniale lo mostra insomma, no? Noi sposiamo il positivo e dopo ci diventa il negativo e dobbiamo tenercelo insomma, no? Perché dobbiamo trasformarlo in positivo all'origine insomma, no? Perché perché ci si è sposati? Per tirarsi un nemico in casa, no? Ci si è sposati per tirarsi un nemico in casa, quindi uno è stato amico, lo può sempre ridiventare amico, insomma, no? Eh, dove? Mi sono perso? No? Ah, e questo che ne do è? E come capacità di trasmettere poi questa identità attraverso la generazione, ne abbiamo parlato poco fa padre Anatrella, il matrimonio quindi è il luogo inscindibile dell'esperienza unitiva e procreativa, questo tema che nella umane vita ha fatto discutere i due significati, tra l'altro è un atto che ha due significati, mi capite? Quindi sono inscindibili perché è lo stesso atto, il matrimonio quindi come un'intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal creatore strutturata con leggi proprie stabilita dall'alleanza con Dio. Questa è stata la grande conquista della Gaudio et Spes. Da tutto questo adesso noi non viviamo negli archetipi, viviamo in luoghi, qua adesso bisogna vivere in questo ambiente, perché l'ambiente è educativo, cioè non educano le tecniche, che educano è l'aria che io respiro. Una volta l'oratorio educava senza catechesi, perché vivevi lì, cioè dobbiamo creare ambienti educativi. Allora questo paradigma potrà sopravvivere negli ambienti casa, parrocchia, scuola, piazza eccetera. Ecco allora spiegato questo che non riuscite a leggere. E chiudo. Allora di fronte alle sfide ci sono possibili secondo me tre atteggiamenti, vedete voi quale scegliere. C'è l'atteggiamento della rassegnazione, guardate che ce ne sono tanti, anche preti, che sono rassegnati, non hanno elementi, dicono ormai le cose vanno così eccetera. Alcuni sono rassegnati e tristi, altri dicono cosa volete fare? Bisogna che andiamo dietro al mondo, se no in chiesa non ci viene più nessuno. C'è anche la reazione apologetica, quella che fa pugni. Io l'ho vista anche in un recente confronto nella mia diocesi pubblica. Certamente lì i contenuti sono buoni, è che la modalità di esprim non è proprio così buona. Poi c'è il terzo atteggiamento che dovrebbe essere il vero atteggiamento perché è l'atteggiamento che Dio ha avuto nei nostri confronti, non ha fatto a pugni, qualche volta ce ne ha scazzotato bene anche, forse ci voleva, però ha sempre alla fine dialogato. Il dialogo è l'atteggiamento adeguato per stare nella agora. E qui vi cito una frase di Paolo VI che starà beatificato finalmente, per me il più grande papa del novecento, ma dovrei spiegarvi i motivi insomma, non per questo. La chiesa dice nell'Ecclesian sua deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La chiesa si fa parola, la chiesa si fa messaggio, la chiesa si fa colloquio. E finisco, adesso cedo la parola alla coppia, la ricaduta allora del tema negli ambiti della vita quotidiana. Il tema verrà svolto in due anni, qui scrivo quello che ha scritto Don Paolo nella Dettia. Nel primo anno i workshop proveranno a tradurre i contenuti offerti dai relatori negli ambiti proposti delineando i nodi critici da approfondire. Speriamo che il menu vi piaccia, ma eventualmente fatevelo voi insomma, grazie. Ma a me e a Laura aspetta di dare un po' qualche indicazione metodologica. La richiesta che vi facciamo è di stupirvi di voi stessi, cioè di fare dei lavori di gruppo che non siano quella roba dove uno poi non partece perché è una bella giornata, riusciamo a scappare, non ci controllano, per quale motivo andare a fare i gruppi eccetera. Secondo elemento, sapere che questi lavori di gruppi non finiscono alle sei, cioè si creerà una community tra tutti i partecipanti virtuale via internet e il coordinatore di questi gruppi comunicherà con voi per un anno. Quindi questo gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro che ha un anno di lavoro. Su cosa deve lavorare? Giancarlo vi ha già detto evitiamo la rassegnazione, evitiamo la reazione apologetica e dialoghiamo. Cosa vuol dire dialogare? Questo è poi importantissimo. Per dialogare bisogna avere un metodo dialogico. Allora il metodo dialogico secondo me è il metodo di Papa Francesco che si è presentato al mondo dialogando. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pranzo, è il Papa delle relazioni. Abbiamo avuto un Papa antropologo, Giovanni Paolo II, il nostro libro è un tentativo di far vivere le grandi catechesi di Giovanni Paolo II nelle parrocchie e purtroppo si sono fermate spesso nelle aule accademiche. Quante parrocchie hanno fatto proprio in corsi post matrimoniali la teologia del corpo del Papa? Io ricordo che quando abbiamo scelto il titolo del nostro libro che qualcuno dice che è un po' criptico, perché è l'eclissi della differenza che vuol dire, oggi lo capite meglio rispetto a due giorni fa, il titolo che avevamo pensato era un titolo apologetico e il titolo era maschi e femmine nel diluvio del relativismo. Poi di fronte ad un bicchiere di Valpolicella insieme con Don Enzo e con Don Paolo abbiamo inventato questo titolo che effettivamente induce il lettore alla fatica di capire, però non è un'apologia ma è un'evidenza empirica. Poche chiacchiere. Esiste l'eclissi della differenza sessuale. L'eclissi è buio. Grazie a Dio l'eclissi comincia e finisce. Durante l'eclissi non bisogna che i bambini si spaventino e per non farli spaventare è inutile urlare durante il buio. Bisogna accendere delle luci. Ci tocca accendere delle luci. Questo è il nostro compito. Ma guardate, dialogare vuol dire capire le ragioni dell'altro. Non si può capire il gender senza studiare il postmoderno. Il gender nasce da un'esigenza giusta, giustissima. Mettere in discussione i paradigmi autoritari della società occidentale. Il postmoderno è Derrida, il postmoderno è Lyotard, il postmoderno è Deleuze. Cosa facevano questi signori? Dicevano, ha senso la distinzione civile-incivile, europeo buono, il resto del mondo cattivo? No. E cosa faccio io? Decostruisco la superbia occidentale. Ha senso che la donna subisca il maschio autoritario e che impone la sua violenza? No. E io cosa faccio? Decostruisco la differenza sessuale. Diceva Derrida, si può decostruire tutto eccetto la giustizia. Il nostro modo di dialogare è dire avete fatto bene a decostruire il maschilismo, ma per decostruire il maschilismo vi diamo una mano, ricostruiamo la differenza sessuale. Perché la differenza sessuale serve all'armonia erotica, perché la differenza sessuale serve alla crescita delle persone eccetera eccetera eccetera. Con quale metodo? Io insisto molto sul metodo perché non vorrei che i nostri gruppi risultassero o un dialogo tra sordi o una serie di proclami di minoranze che hanno poche chance di fare quello che hanno fatto in Croazia. Per evitare questi rischi dell'agit prop, diciamo, del fondamentalismo cattolico, il suggerimento che vi do è di seguire le orme di Papa Francesco e ci sono delle indicazioni metodologiche che ci dà il Papa. Ce le dà esattamente dal numero 35 al numero 49 della Evangelii Gaudium. È un grande insegnamento di metodo, il metodo del discernimento, il metodo dell'annuncio, la rinuncia all'uso della verità come una clava. 35. Una pastorale missionaria non è ossessionata dalla trasmissione di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. L'annuncio si concentra sull'essenziale. Attenzione, maschio e femmina non fan parte dell'etica, fan parte dell'antropologia, cioè dell'essenziale, cioè dell'idea di Dio. Più attraente sull'essenziale in ciò che c'è di più bello, la bellezza della differenza sessuale, non la cattivere degli altri. Luca era gay ed ora sta con lei. Questo è un insegnamento bellissimo. Trovare il modo che anche le persone che hanno un orientamento sessuale o omosessuale possano trovare nella parrocchia qualcuno che con tenerezza, delicatezza, gli annuncia la bellezza della differenza sessuale. Ricominciando a fare i corsi di cuscito in parrocchia, impedendo ai capi scout femmina di vestirsi da maschiaccio. Riscoprendo la bellezza del trucco, eccetera, eccetera, eccetera. 36. Esiste una gerarchia delle verità. 37. San Tommaso. Anche nel messaggio morale c'è una gerarchia. La misericordia è la più grande delle virtù. Numero 37. Scriviamocelo con quattro segni. 38. Se un parroco parla dieci volte di temperanza e due volte di carità, c'è una sproporzione nella gerarchia delle verità. 39. Non bisogna mutilare l'integralità del messaggio evangelico. 40. I teologi aiutano a maturare il giudizio della Chiesa, no a dottrine monolitiche, ma la varietà aiuta. 41. La verità di sempre in un linguaggio nuovo. Eccolo qua. Riusciamo a ridire la verità di sempre in un linguaggio post-gender? Guardate, voi non avete letto, molti di voi, Foucault, Derrida, Deleuze, ma a noi, ai nostri figli e alle nonne, Deleuze, Derrida, Foucault e Lyotard è stato spiegato in dosi omeopatiche da Lino Banffi. Da dieci anni a questa parte. E tutto diventa normale. Tutto si decostruisce. Attenti, pubblicità e televisione sono i più potenti strumenti per trasmettere questo pensiero unico, contro il quale non ci deve essere soltanto la reazione etica, ma anche la reazione sociale. Come per gli F35 ci infiammiamo, perché sono soldi buttati, anche per azioni che tendano a demolire la differenza sessuale, pensate al tema della fecondazione artificiale, cominciamo a dire che c'è di mezzo il mercato. I soldi, la vendita dei gameti, gli uteri in affitto. E idem, di fronte al tema della differenza sessuale, non dimentichiamoci di richiamare il tema forte, il tema essenziale per noi della bellezza del diverso, della differenza, della non omologazione. Cosa fare concretamente? Dicevo, il metodo di Francesco, che è anche il metodo di San Francesco. Nel gruppo che ha preparato questi lavori abbiamo discusso molto di un elemento che per me forse è poco percepito. Il gender è una grande eresia, ed è un'eresia gnostica, un'eresia ariana. Come il catarismo, che ha aggredito la Chiesa sulla carne. Il catarismo, che era l'ultima propagine dell'eresia ariana, dell'eresia gnostica, cosa diceva? La famiglia non va bene, perché c'è un principio buono, Dio, che crea lo spirito, e uno cattivo, Satana, che crea la carne. Va da eretro carne. Questa eresia, che condivide anche Casaleggio, e che chi va a internet la trova, è un'eresia che internet moltiplica, che decarnalizza il nostro cristianesimo, che ci toglie l'incarnazione, ci toglie il realismo. Vedete, ci sono elementi fondamentali su cui bisogna ricostruire, dopo che qualcuno ha, con buone ragioni loro, decostruito. E per ricostruire bisogna dialogare con chi ha decostruito. E dicevo, perché il metodo di Francesco? Perché Francesco ha fatto il più grande canto anticataro, senza parlare mai dei catari. Qual è la più grande propaganda anticatara che si poteva fare nel 1200? Il cantico delle creature. Perché di fronte ad una ideologia che cancellava la carne, la materia, lui, come il gender, esaltava la materia, la carne, il sole, la luna, le stelle, eccetera, eccetera. Concretamente, scopo del lavoro è far emergere esperienze concrete di educazione al femminile e al maschile nei diversi ambiti. Casa, parrocchia, scuola, piazza, sport, web. Al centro c'è la differenza. Da una parte c'è la parola educazione e dall'altra c'è l'esperienza concreta che ognuno fa. Il primo anno questo sarà fondativo, il secondo sarà per le soluzioni pastorali. Non affrettiamoci a trovare le soluzioni pastorali, perché c'è da lavorare, lavoriamo molto sul fondativo, perché siamo tutti molto ignoranti, siamo tutti molto incompetenti. Quando parliamo di educazione non parliamo di proclami ideologici, per cui nei vostri interventi dite qualcosa di educativo. Vi do un consiglio. Io ho immaginato, per darvi soltanto qualche indicazione metodologica, se chiedessi ad un bambino dimmi cos'è educazione, comportarsi in modo educato, educare, cosa vuol dire educare? E mi sono fatto un decalco, poi non ho fatto tempo a fare la slide, ma ve lo racconto perché ci mettiamo tre minuti. Il decalogo dell'educazione, a cui doveste ispirarvi nel fare i vostri interventi, che sarebbero fuori tema se non parlassero di queste robe qui. Educazione è mettersi in relazione. Quindi il primo tema è il tema della differenza sessuale e del maschile e del femminile è un tema di relazione. Uno degli autori preferiti dal Papa si chiama Michel Deserteau, è uno psichiatra, psichiatra francese, vissuto nel 68, un po' 68, ma di grandissimo interesse. Tra i tanti libri che ha scritto ve ne consiglio uno intitolato Mai senza l'altro. Mai senza l'altro. Con la prefazione di Enzo Bianchi, edizione Kikajon. Secondo, narrare. Che racconti faccio ai miei figli? Biancaneve, non biancaneve, la famosa asilo svedese dove hanno proibito i sette nani perché sono troppo maschili, il principe azzurro, eccetera, eccetera. Tre, introdurre nella realtà. L'educazione è sempre un'introduzione nella realtà, se non è l'educazione. Uno che ha 40 anni sta ancora in casa con la mamma e la mamma lo sposta quando deve mettere a posto le cose e fare le pulizie, è uno che è stato educato male, diciamo. Quattro, accettare il conflitto, ne sa qualcosa chi fa il genitore di figli adolescenti. Cinque, rispettare la libertà, quelli che hanno più insistito a conculcare se sono trovati figli che la pensavano all'opposto. Sei, mettersi in discussione. Sette, essere presenti e il fenomeno dei padri assenti è una delle cose su cui riflettere sul tema dell'identità sessuale. Otto, non essere invadenti, nonni, attaccamento materno, eccetera. Nove, essere autorevoli e credibili. Dieci, essere competenti. In assenza di quote rosa ho un minuto, per cui farò velocissima. Soltanto per dirvi che ciò di cui abbiamo parlato in questi giorni e che abbiamo messo in evidenza è lo splendore della bellezza, della mascolinità e della femminilità. Tutto ciò è molto vero e per far questo abbiamo riprecuperato le parole di Gesù, di Matteo 19, siamo tornati al principio, Genesi 1 e 2, tutto questo è verissimo e proprio perché è vero c'è bisogno di una chiesa e quando dico chiesa intendo un popolo che custodisca e promuova questa bellezza della mascolinità e femminilità non solo prima del matrimonio ma dopo accompagnando le coppie, diventando davvero famiglia di famiglie, stando accanto alle coppie perché vicino a Genesi 1 e 2 c'è Genesi 3 e in Genesi 3 si racconta il lato B della relazione si raccontano quelle ferite quelle sofferenze che tutti noi sperimentiamo in famiglia e che grazie a Dio le sperimentiamo all'interno di una dimensione di fede di un Cristo di una chiesa che ci proteggono e che ci guidano ma non è così per tantissime altre coppie ecco che allora noi abbiamo pensato in questi anni che questa chiesa deve veramente uscire allo scoperto e cominciare a prendersi cura delle altre coppie e cominciare da veramente camminare accanto alle coppie assumere la realtà delle ferite delle persone lavorare su queste ferite perché questo splendore possa comparire perché esiste Genesi 3 cioè la realtà del peccato che non viene mai nominata e viene sempre dimenticata cioè la realtà di tutti quei limiti ma anche di quella natura ferita che inevitabilmente emerge dopo di che dopo che si passa dalla coppia ideale alla coppia reale e quando si passa alla coppia reale emerge tutta la dimensione della nostra umanità positiva e negativa si emergono tutti i modelli maschili e femminili che abbiamo ricevuto che sono feriti dove quello splendore non sempre emerge e questo è un lavoro dunque che deve essere fatto prima di tutto su di noi per diventare testimoni credibili e poi che ci vede tutti tutti chiamati e impegnati a prenderci cura di un'altra coppia di altre coppie di sentire far sentire davvero a tutti quella solidarietà quella amicizia quella fraternità che viene dal Cristo che ci rende prossimi gli uni all'alte il nostro libro è stato un tentativo è un tentativo di fare una proposta una proposta di pastorale come non mi auguro ne nascano tante che la fantasia creativa ispirata dallo Spirito Santo veramente lavori in ciascuno di noi una proposta pastorale per poter realizzare un lavoro davvero di accompagnamento delle coppie spero che vi possa essere utile sia per il vostro lavoro pastorale e sia su voi stessi perché prima dobbiamo lavorare su noi stessi prendere coscienza di tante cose diventare consapevoli e metterci in gioco per poter essere veramente con gli altri testimoni della bellezza della bascolanità della femminilità io approfitto del fatto che ha parlato poco mia moglie cosa rara per le donne ovviamente capite che i croli possono modificare per dire soltanto due cose che mi erano sfuggite e che secondo me sono importanti la prima è questa attenzione noi siamo in una situazione ecclesiale che è analoga all'ottocento alla fine dell'ottocento quando c'era il grande movimento marxista di fronte a questo la chiesa si vedeva interrogata era il pensiero più forte che si stava affermando con l'era del ronavaro la chiesa non ha detto il marxismo di tutte palle ma ha detto dice delle cose vere lo sfruttamento eccetera eccetera dà delle terapie che possono essere sbagliate perché offendono la dignità della persona umana quindi si è interrogato la ronavaro una grande risposta ad un movimento storico che nasceva da posizioni di ricerca della giustizia di fronte al gender bisogna fare la stessa cosa c'è bisogno di una chiesa che si ponga in dialogo una delle cose su cui bisogna riflettere è al di là di chi è omosessuale per motivi genetici o per motivi culturali esiste un riverbero di questa teoria sulla vita delle coppie maschili e femminili dove è questo riverbero questo non è un cattolico si chiama Roberto Volpi è un lo studioso un sociologo si chiama il sesso spuntato allora nella genesi c'è scritto che il maschio si dice zakar che vuol dire puntuto e la femmina nekva che vuol dire perforata nelle nostre esperienze troviamo tante mamme falliche e tanti papà spuntati su questo bisogna lavorare per defallizzare le nostre mogli e aiutarle a andare a comprare un po' di biancheria intima che gli fa bene anche a loro e per consentire ai maschi che si sono come dire privati di questa loro autorevolezza di trovare come si fa a far questo anche qui scusate se mi ripeto il metodo di Papa Francesco solo una brava femmina può far diventare più maschio il marito solo un bravo marito può far diventare più femmina sua moglie e questo deve essere un light motive che diventa in qualche modo nei gruppi concretamente verificato alla luce delle nostre esperienze grazie a tutti